Francesca Marino, la ragazza ricoverata alle molinette di Torino in seguito ai fatti di Piazza San Carlo, è stata dimessa sabato scorso. La giovane donna è uscita dal coma farmacologico una settimana dopo gli episodi di paura verificatesi durante la notte del 3 giugno e ha lasciato il reparto di medicina d'urgenza dell'ospedale. Ospedale torinese in cui tuttavia ritornerà nei prossimi giorni per le dovute cure e per superare al meglio i traumi del terribile incidente della calca di Piazza San Carlo. Il ritorno a casa di Francesca è avvenuto in concomitanza con i festeggiamenti di San Giovanni, patrono della città, e con i festeggiamenti nella sua monasterace in onore di Maria Santissima di Portosalvo. Dopo Laura Scalfani che nei giorni scorsi ha lasciato l'ospedale mauriziano per tornare alla sua famiglia e alla sua vita, un'altra donna così esce dal tunnel imboccato sabato 3 giugno. La ragazza inizialmente era stata ricoverata in condizioni molto serie. Una buona notizia che non allieva però il bilancio di una serata terribile segnata per sempre dalla morte di Erika Pioletti, la 38enne di Domodossola deceduta al San Giovanni Bosco.